E' l'effetto la città! Ehi, c'è poco da sfruttare, là si cambia ben assai, ehi. E allora perché sei tornato? Ehi, ma io non ci vado subito. E come fai? Hai trovato lavoro? E c'è il mio zio. Ehi, state attendo, sai come si dice? L'ospite è come un pesce. Ma che vai facendo, ehi? Ti sei fatto impressionare dalla città, credito. Ehi, soldi, quali soldi? Va a vedere che c'è là sotto. Quella là sotto, sai quante disgraziate ci stanno? Mmm, imbruglio, cambiale. Ma no, che te lo fa fare? Tu qua, stai a casa, tu. Tieni il tuo stipendio, un posto d'ora. Ti vedi la tua bella laurea? Poi, con calma. Ti vedi la tua bella laurea? 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 Grazie a tutti.